ciao ragazzi bentornati voi che siete super tecnicamente fantastici apriamo come sempre siccome siamo dalla parte degli utenti con roberto padova che era l'utente più veloce dello scorso video nel commento chi per primo arriva in questo video super saluto nel prossimo video un video molto richiesto da voi me lo chiedete da tanto di parlare di questo argomento ma prima ovviamente tutti i social nel link in descrizione del video per contattarmi scrivete argomenti proponete video chiedete su prodotti chiedete su tariffe io vi rispondo nei limiti del tempo a tutti molto volentieri campanellina e iscrizione al canale per ricevere sempre tutti i video in antiprima con le novità un argomento molto richiesto è Tiscali mobile ma come per l'essimo ho voluto aspettare il momento giusto il lancio delle nuove smart 30 60 le nuove tariffe in 4g sotto copertura team di Tiscali mobile è il momento di parlarne vuole entrare anche Tiscali con 4g in un mercato già bello saturo bello pieno con le sue offerte saranno offerte buone saranno offerte non buone saranno convenienti non saranno convenienti partiamo dagli aspetti positivi che non sono tantissimi sinceramente allora il primo è che è un'offerta libera quindi può aderire chiunque da qualsiasi operatore quindi non serve per la portabilità da 1 2 noti soliti ma si può venire da team da il da vodafone da h3g da mobile da kena da rabona insomma da qualsiasi operatore si può passare poi i nuovi clienti quindi i clienti già esistenti possono aderire a questa nuova offerta possono fare il cambio di tariffa quindi non è che chi è già cliente costretto a fare una portabilità quindi sia i nuovi clienti da qualsiasi operatore sia già esistenti possono aderire all'offerta offerta che prevede la smart 30 a 7 euro 99 100 sms minuti illimitati 30 giga in 4g fino a 30 megabit e qui mi comincia a venire l'orticaria perché c'è il limite dei 30 mega ma prima la spieghiamo allora 7 99 30 giga 100 sms minuti limitati allora non è una novità ci sono tariffe migliori sul mercato ci sono anche i 30 mega di limitazione non è un'offerta buona no non mi pare un'offerta molto buona bisogna essere abbastanza sintetici perché comunque a livello commerciale a 7 99 troviamo dai 50 e 70 giga in su tranquillamente senza anche i limiti di banda e con gli sms illimitati chiaramente tiscale immobile appena arrivata con le nuove offerte con il 4g quindi bisogna anche capire che non è ilia de timo vodafone che può fare subito offerte diciamo come un operatore fisico sta cercando di proporre il suo di migliorare il suo servizio quindi io parto che stiamo parlando di un pesce piccolo che vuole ingrandirsi quindi se vogliamo paragonarla a una di quelli che ho detto non si può fare quindi ragioniamo che tiscale era lì ferma adesso parte col 4g e cerca di stringere il prezzo per avere anche dei utili perché sennò non può stare in piedi quindi chiaro che non può ancora competere col prezzo però dici ti do 4g fino a 30 mega 7 99 30 giga non è competitiva comunque al di là di tutto perché ci sono tariffe che hanno più giga gli sms illimitati allo stesso prezzo è inutile dirlo però è una tariffa che ha la sua logica a 7 99 ti do questo pacchetto poi se confrontato con i mostri sacri o con le tariffe di altri operatori virtuali non è competitiva però capite altri operatori virtuali non respalano gli operatori fisici immensi che possono permettersi economicamente anche di e poi fanno tutte solo da quei due solo da quei tre loro almeno lo fanno da tutti gli operatori anche il passaggio per i già clienti questa è la cosa positiva la tariffa però secondo me va rivista dal punto di vista del prezzo passiamo a quella che poteva essere interessante poteva dico peccato che costa troppo 60 giga 300 sms che possono andare bene anche se non sono illimitati minuti illimitati fino a 30 megabit limite di banda ma se guardiamo anche gli altri solo rabona limiti di banda più alti e pochi altri altri sono sui 30 mega e sono 11 euro 99 al mese e qua purtroppo il prezzo fa la differenza sì perché purtroppo questa tariffa ha le caratteristiche se 60 giga 70 60 siamo in linea con le tariffe attuali che vanno fino ai 70 giga senza problemi 10 giga e meno a me ragazzi però 60 giga minuti illimitati 300 sms 4 gt insomma c'è la possibilità di aderire per i già clienti per i nuovi da qualsiasi numero peccato che 11 euro 99 è completamente fuori mercato cioè sono due tariffe che hanno una logica diciamo dal punto di vista della composizione e del lancio ma non commercialmente no a livello di prezzo perché non potevano permettersi forse di far di meglio però attenzione chiusa la parentesi sulle due tariffe ampiamente bocciate per il prezzo non per il contenuto ma per il prezzo però ampiamente bocciate perché non solo comunque competitiva a livello di prezzo ma l'idea c'è meno male che anche tiscali io a me tiscali non dispiace c'è l'idea secondo me è un altro operatore che potrebbe fare bene in futuro anche perché ve lo do in anteprima come sempre solo qua vi do la notizia tiscali a giorni prima di natale lancerà delle tariffe in 4g sempre così composte non si sa ancora con quanti giga ma con più giga forse arriveremo anche i 70 fino a 150 mega quindi queste sono l'antipasto e non sono competitivi dal punto di vista del prezzo però attenzione che arriveranno le tariffe fino a 50 in upload e 150 megabit in download perché a 30 mega se in 3g poco più parliamo chiaramente invece se tu mi lanci delle tariffe a 150 megabit di limite di banda parliamo di un'altra cosa stiamo parlando di un 4g plus 4g pieno perlomeno sfruttato a pieno quindi i limiti di banda si alzano di tanto e andiamo a 50 megabit in upload a 150 mega quindi mi fai usufruire di un 4g pieno è interessante l'idea però la mia mente la mia mente sta elaborando una cosa tu tra poco lancerai queste tariffe che vi do in anteprima si chiameranno smart forse ci sarà la smart 70 la smart 80 forse anche gli 80 giga si parla addirittura superare i limiti degli altri no però attenzione non è i 70 giga che tu lancerai i limiti di banda più alta perché mi permetterai di andare a 50 megabit in upload e in download a 150 ma il prezzo quale sarà il prezzo perché per logica commerciale se tu mi lancia 7 99 quella da 30 giga non mi potrai mai lanciare con quei limiti di banda una tariffa che costa meno se no che senso ha lanciare questa quindi le previsioni sono 12 euro 15 euro cioè ci potremmo trovare di fronte a una 70 giga 14 euro a 13 99 con limiti di banda più alta più alti o due tariffe dai 13 ai 15 euro quindi secondo me c'è il rischio di avere i limiti di banda più alti di tutti quindi finalmente un operatore che non lascia spazio a limiti ma ti fa andare a 4g quasi pieno quindi vale la pena però a prezzi fuori mercato ancora di più allora varrà la pena fare una tariffa con limiti di banda più alti pur con un operatore virtuale ma spendere quelle cifre no perché se vado a prendere un operatore fisico pago meno anche la metà e ho la banda libera se vado a prendere altri operatori virtuali comunque spendo spendo da 14 a 7 spendo la metà e mi tengo il limite di banda anche se non è una cosa ovviamente buona però attenzione perché qua il rischio è il prezzo poi se costano 5 euro sono dei fenomeni però mi devono spiegare perché hanno lanciato a 7 a 11 euro queste due non avrebbero senso anche nei confronti dei clienti quindi se le prossime tariffe da 150 megabit di limite così detto da tiscali poi non so se si avvererà questa è la mia notizia che vi do speriamo che poi sia vera il prezzo sarà sotto i 10 sarà una gran cosa allora diventano competitivi anche nei confronti degli altri ma se andiamo dai 12 ai 15 euro cioè non ne vale comunque la pena anche perché sempre un limite di banda pensate che un 4g plus può arrivare a 300 tu me lo limiti a metà 150 vabbè però parliamo già di velocità che cominciano a salire ok però comunque questa scommessa di tiscali è un po' diciamo a rischio prezzo lancio bisogna vedere appunto qual è il prezzo e quale sarà scrivete voi nei commenti di cosa ne pensate di questa di queste nuove tariffe non promosse per il prezzo e di quelle future poi un'altra cosa che ti schia le menti di lanciare questa è una piccola chicca 2 euro e 99 al mese vuole rimodurre cioè rifare una tariffa che aveva già fatto ai tempi col 4g dando 2 giga 2,99 con chiamate con 500 minuti e una trentina di sms con 2 giga o 4 giga di traffico non sarebbe male non sarebbe male c'è in progetto anche questa questa cosa di lanciare questa tariffa diciamo low cost super economica per quegli utenti che hanno un traffico inferiore secondo me può anche essere interessante perché chi ha 2 giga o 4 giga giusto per farsi la messaggistica la mail la navigatina tranquillo in 4g a 30 mega le chiamate 500 minuti comunque possono per uno che fa un'ora al giorno gli bastano tutto il mese e i suoi 10 20 30 sms 2 euro 99 secondo me potrebbe essere la chicchettina da aggiungere insieme a questa la 150 megabit al secondo addirittura potrebbe essere commercialmente più interessante questa 2 99 rispetto alle altre 15 euro quindi ci invento io ma ripeto per chiudere il video se per logica tu lancia 7 99 quelle a 11 99 l'altra non penso che con limiti di banda 150 mega tu almeno che tu non fai una tariffa da 10 giga però mi devi dare pochi giga con un limite di banda più altra di stesso prezzo allora mi prendo il limite di banda mi prendo il limite di banda e se sentite gridare e che c'è qualcuno che ovviamente mi chiama ogni tanto quindi anche questo bisognerà vedere poi i veri prezzi effettivi che ci sono nelle tariffe che verranno anche con i limiti di banda più alti per il momento cosa faccio vi saluto vi do appuntamento alle prossime state incollati perché arrivano dei video sempre più interessanti che in futuro magari chi sta gridando porterà avanti al posto mio perché gli eredi sono sempre quelli che poi fanno proseguire le cose ciao e grazie come sempre